Le quattro tecniche di schiariture principali, una miniserie di quattro pillole formative. Ciao, sono Giusy Palmieri e in questo canale tratto argomenti di formazione per parrucchieri. In questo video vedrai alcuni suggerimenti su come eseguire le schiariture a pettine. Iniziamo subito! La tecnica di schiariture a pettine si presa tantissimo su capelli corti ed è particolarmente veloce quando vogliamo illuminare solo alcune zone. Utilizziamo il pettine a coda intingendolo nel decolorante soltanto per pochi centimetri. Puliamo il pettine sul bordo della ciotola e possiamo tenere uno scottex per scaricare ulteriormente il pettine. Il gesto deve essere lento ma continuo Ogni volta dovrò rintingere il pettine Applicando il prodotto in questo modo uniforme avremo una schiaritura più definita. Se vogliamo che l'effetto sia più naturale possiamo ripassare la ciocca sfumando leggermente. Questo è l'effetto che io preferisco. Nella sezione successiva lavoreremo a scacchi quindi andremo a eseguire le schiariture in modo alternato. Qui vediamo la tecnica di schiaritura a pettine Le ciocche sono chiare dalla radice alla punta in modo molto uniforme. Cosa pensi delle schiariture a pettine? Scrivilo qui sotto nei commenti Dallo smartphone devi scorrere fino in fondo Clicca su iscriviti e attiva la campanella Avrai sempre video nuovi formativi per parrucchieri Inoltre un regalo per te Nella descrizione del video trovi un link per scaricare la guida gratuita su Mature Perfette in 3 Step Scaricala gratuitamente Per questo tutorial è tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao